quando il ragno e la gotta uscir di mano al diavolo costui disse a costoro l'una e l'altra sarete al semo mano un regaletto d'oro andate allegramente e poi pensate a scegliere casa ve ne son di belle magnifiche e dorate e ve ne son di brutte e rovinate dica ciascun le preferenze sue o tiri una pagliuzza eccone due per me soggiunse il ragno a queste a quelle ma dato e non ci guardo ma la gotta che in case di riguardo osserva un gran via vai di dottoroni no no dice alla larga dai portoni e va a piantar come si dice il chiodo nel pollice di un piede a un pover'uomo sperando a questo modo di starsene sicura come in duomo senza fastidi e senza dottori che le intimi la licenza il ragno intanto scelta una cornice di camera elegante la sua tela spiegò tutto felice vi piglia mosche e d'altro non si cura come se avesse fatta in vestitura di starvi vita natural durante ma finita una tela ecco una bella scopa che la cancella rifatta ecco di nuovo a sua disdetta in alto quella scopa maledetta e dagli e dagli fugge dalla ragna perseguitata e rotta e corre a consolarsi con la gotta che meglio non viveva la campagna anzi peggio vivea che il suo padrone secola porta al bosco e solchi al campo tagliar spaccar zappare non c'è scampo di riposare e dice un zibaldone che gotta scossa è assai presto rimossa cangiam fratello cangiam è detto fatto ad abitar bel ragno alla capanna dove scopa non c'è che dia lo sfratto e la gotta pacifica si adagia sul corpo ad un prelado eminentissimo come se fosse un letto di bambaggia in quanto a cataplasmi di speziali si sa che sono dagli uomini inventati per trarre in peggio i mali dello scambio dei loro appartamenti i due fratelli si trovar contenti fine della favola la gotta e il ragno questa registrazione è di dominio pubblico grazie 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 grazie